Al Museo Crocetti di Roma, un'opera unica di Carla Pitarelli. Ho studiato fino ad arrivare ad affinare una tecnica con una serie di composizioni che vanno dalla fotografia alla pittura e con una post-produzione su un grande pannello di LED. Quest'opera esattamente che rappresenta Roma durante una passeggiata primaverile si chiama Cucù ed esprime tutta la gioia che ti può dare questa città scoprendo piano piano tutti i suoi nibi.